Con il professor Dioguardi l'hanno chiamata una rivoluzione copernicana, cioè una nuova metodologia nell'approccio anche alla cura dei pazienti. Allora, noi oggi parleremo di un aspetto comune a moltissime malattie, se non a tutte le malattie, che è l'aspetto del sovraccarico del metabolismo indotto dalla malattia di cuore, del rene, dal cancro. Amminoacidi essenziali e amminoacidi non essenziali, tutto o molto sta nella miscela? Assolutamente, questo è il messaggio che sta venendo fuori dalla ricerca avanzata, ovvero, nelle proteine che noi introduciamo tutti i giorni, il rapporto tra essenziali e non essenziali è tutto a vantaggio quantitativo dei non essenziali. E quello che stiamo scoprendo, modificando questo rapporto, vuol dire aumentando la quantità degli essenziali rispetto ai non essenziali, è che il numero di benefici che se ne possono trarre è enorme. Per esempio, uno dei dati più importanti, fra altre cose, l'Università di Camerino e l'Università dell'Aquila sono state quelle che le hanno tirati fuori, è che se il cancro viene nutrito con gli amminoacidi essenziali, in 96 ore le cellule neoplastiche si suicidano. Quindi mi capisce che le implicazioni, siamo all'inizio di una lunga strada, ma le implicazioni sono straordinarie. Possiamo capire qualche cosa che finora non era stato compreso, neanche intuito. Ma gli amminoacidi essenziali non sempre sono presenti nei cibi che assumiamo? Questo è il problema, e questo è un problema drammatico, perché la deduzione che è obbligatorio fare, è che quindi quello che la natura ci mette a disposizione non ci fa poi così bene. In realtà la natura cerca di ridurre il numero dei grandi predatori, quelli che mangiano tanto, e uno dei meccanismi con i quali la natura ci uccide abbiamo scoperto essere proprio i non essenziali. Tu mangi tante proteine, mangi tanti non essenziali, i non essenziali ci fanno male.